Come sempre vi chiedo di presentare voi la vostra testata prima di fare una domanda, una domanda a testa. Se abbiamo tempo ne facciamo altre alla fine. Cominciamo con lui. Buonasera mister, considerando che l'imponderabile, specialmente nel calcio, è sempre dietro l'angolo, considerando che gli avversari hanno messo un paio di pullman davanti alla difesa, c'è stato un attimo che lei ha cominciato a perdere la pazienza, magari prima del minuto 77. Grazie. La pazienza sembrava una delle classiche partite che hai sempre sotto controllo, che le stai dominando e che non riesce a metterla a posto. Per fortuna anche a un po' i giocatori la pazienza l'hanno avuta, perché non era facile. Con loro prevedibilmente in quella densità difensiva che ogni tanto fanno, e penso di andare sotto contro queste squadre sia la peggiosa che ti può capitare, perché poi la densità aumenta addirittura. Quindi non era facile venirne a capo. Siamo rimasti con la giusta pazienza, abbiamo continuato a giocare, e poi alla fine l'abbiamo messo a posto, ma oggi è una conseguenza della differenza di quantità di calcio espresso fra le due squadre. negli sportatori mi hanno detto che abbiamo battuto il record di possesso palla e di supremazia territoriale in una partita quando esiste la Champions. Quindi è chiaro che la partita era completamente in mano nostra, poi venire a capo non era neanche semplice in quella condizione. E' chiaro che poi ne potrei venire a capo soprattutto un qualche tiro dal limite, un qualche tiro da fuori, era la situazione più probabile. Buonasera mister Sergio Baldini, tutto sport. Ciao. Volevo chiedere un giudizio su Bentancur e su dei tre ruoli, ormai l'ha utilizzato in tutte e tre le posizioni del centrocampo, in quale le sembra possa dare il meglio, magari anche in prospettiva nel suo sviluppo. Grazie. Lui ha questa buona capacità di muovere la palla. In questa fase lo sta facendo forse meglio da interno e da trequartista e non da vertice basso, anche se poi una qualità tipica è invece di un vertice basso. Penso che il giocatore è forte. Il giocatore è forte, ha delle grandi qualità tecniche, ha delle buone qualità fisie. È un giocatore ancora in evoluzione, perché è un ragazzo ancora molto giovane. Penso che alla fine possa diventare un buon vertice basso, ma da qui a 25-26 anni può diventare un ottimo centrocampista, anche un centrocampista interno, anche offensivo. Perché in certe partite è vero che quando trovi questa densità hai bisogno di giocatori che attaccano l'area di rigore, ma è altrettanto vero che hai bisogno anche di muovere la palla a grande velocità. E lui questa qualità ce l'ha. Buonasera, Fabrizio Ponceroli, Calcio 2000. È l'anedatore della Lokomotiv, appena detto che si impara sempre tanto da affrontare squadre come la Juventus. Lei che insegnamento porta a casa da stasera, soprattutto in ottica gara di ritorno a Mosca? Ma non lo so se la gara di ritorno sarà sulla stessa lunghezza d'onda, perché ora i punti di differenza sono maggiori e quindi anche loro avranno bisogno di un atteggiamento diverso. Se poi hanno lo stesso tipo di atteggiamento vuol dire che il loro obiettivo è l'Europa League, ma non penso, visto che sono in corsa per ottenere la qualificazione, penso che in quella partita lì se la vorranno giocare e quindi potrebbe venire fuori anche una partita diversa. Però sono situazioni difficili, l'insegnamento è che sono situazioni difficili, i ragazzi sono stati bravi già con la giusta serenità. Era anche logico a un certo punto pensare ad allargargli di più, però era difficile per noi trovare una soluzione con attaccanti esterni molto larghi, visto la situazione attuale. Quindi preferisco mettere in campo contemporaneamente Divala, Guaini e Ronaldo e provare l'altra soluzione. Grazie a tutti. e l'ocomotiv действовал con 5 игрокami aborona. Prinestano le questo non ci sono alcune delle problemi, che voi, magari, non pensate di vedere? Sto il chiunquei di l'ocomotiv di oggi per l'ocomotiv? Siamo che, sicuramente, che più di altri conosciuti di Joao e Mario. Sto il chiunquei di chiunquei di loro? la locomotive in campionato giova molto spesso 4-4-2 in Europa fino a questo momento aveva privilegiato un 4-1-4-1 noi da ieri eravamo sicuri che avrebbe giocato a 5 quindi ci aspettavamo hanno fatto una buona partita difensiva Gio Mario è sicuramente in questo momento in un buon momento l'ho visto in buone condizioni e mi è piaciuto il numero il trequartista lo ha giocato dietro a Eder mi sembra che il numero è il 50 59 un sinistro di buona qualità discreta gamba però è una squadra difficile da affrontare quando assume questo tipo di atteggiamento non è semplice come abbiamo fatto alle Verkusen e riuscì addirittura a portare via il risultato pieno Buonasera Antonio Paolino Radio Bianconera sono 22 i gol segnati dalla Juventus tra campionato e Champions le chiedo se dal suo punto di vista dal suo credo calcistico il tirare tanto in porta ma tirare tanto ma realizzare solo in porta il 25% di quei tiri è ancora un limite di questa Juventus cioè produrre tanto ma oggi abbiamo fatto 28 tiri e se avessimo fatto il 25% dei gol era tanta roba quanti sono 5,6 più altri 5% se l'ha fatto un 7,5 a 1 e quindi il 25% è una percentuale sui importi effettuati non esiste è una capacità realizzativa impossibile diciamo che stiamo segnando meno rispetto a quanto stiamo giocando e a quanto stiamo creando però è anche vero i nostri attaccanti nell'ultima partita non cominciano a segnare una certa regolarità magari una domenica fa doppietta Ronaldo e poi segna un gol indecisivo poi fa una doppietta di Bala e questo ci lascia abbastanza sereni chiaramente se continuiamo a produrre occasioni in questo numero Buonasera Tomaselli Corriere della Sera volevo chiederle se dopo questi due mesi vostri ma anche degli avversari italiani ed europei le sembra che la forbice tra il calcio italiano e europeo si stia riducendo sia la stessa o si stia invece allargando Io penso che ce la possiamo giocare alla pari pur avendo un handicap con il calcio inglese chiaramente in questo momento che è un handicap più che altro economico perché la loro forza globale in questo momento è una forza globale di introiti che sfiorano le quattro volte quello della Serie A quindi è chiaro ne beneficiano un po' tutti i club un po' riusciamo a ridurlo perché dal punto di vista della professionalità delle professionalità delle professionalità secondo me noi siamo un passo avanti rispetto a loro però ridurlo fino ad azzerarlo in questo momento non è non è sicuramente semplice non so se riusciremo come collettivamente come movimento alcista di essere competitivi in Europa però mi sembra anche da noi tirare un'area nuova un'area nuova perché nel calcio italiano una partita di Serie A fino a pochi anni fa sul 3-0 era finita e oggi vedi squadre continuano una mentalità da calcio inglese veramente continuano a giocare su 3-0 ribaltano risultati che rimettono discussioni partite sembravano segnate questo secondo me è un è un bel segnale sta avvenendo fuori e spero che si protragga per tutta la stagione questo tipo di atteggiamento mentale da parte delle nostre squadre l'ultima Conticello Conticello Gazzetta volevo chiederle come sta da Glascosta e quando ragionevolmente possiamo rivederlo in campo ma non non lo so perché in in questo momento è ancora sotto sotto controllo dello staff medico e so che gli ultimi controlli erano buoni confortanti e dovrebbe finire percorso di riatletizzazione allo staff medico penso nei prossimi giorni perché la guarigione clinia sembra in fase d'arrivo e poi bisogna vedere arriverà la guarigione agonistica perché chiaramente un giocatore può stare bene dal punto di vista clinio ma non essere pronto a peggiare una partita lì vediamo le condizioni e non comincerà ad allenarsi con il resto della squadra potremo valutare il suo grado di guarigione anche agonistica non lo so spero lui solitamente è un abbastanza veloce a tornare in buone condizioni fisiche però in questo momento dirti fra una settimana o dieci giorni non sarei non direi la verità fino a fondo perché in questo momento sinceramente non lo so neanche io spero che nei prossimi due o tre giorni mi sia rimessa a disposizione grazie